L'assessore Telesca si legge in una nota emessa quest'oggi dalla Nao Assomed si era detta pronta a dimostrare che per quel che riguarda la riforma sanitaria le accuse di discriminazione della componente ospedaliera rispetto a quella universitaria sarebbero immotivate. Il sindacato più rappresentativo dei medici ospedalieri ha preso carta e penne ed ha ribattuto piuttosto duramente al numero uno della sanità regionale. Intanto in merito alla soppressione della prima chirurgica di Catinara la Nao sottolinea la scorrettezza semantica utilizzata che definisce poltrona un primario il dottor Bruno Gambardella e il suo lavoro il cui reparto viene chiuso laddove la clinica chirurgica universitaria rimane operativa a prescindere dai dati di attività operatoria. Fin qui nulla di nuovo anche sul fronte della polemica. C'è però un dato nuovo l'azienda ospedaliera universitaria di Udine mantiene due reparti di chirurgia generale una direzione ospedaliera una direzione universitaria e qui secondo la Nao assomet salta la teoria dei doppioni da tagliare perché la pianificazione regionale esclusivamente per il territorio udinese prevede differenti mission per le due strutture in modo da salvaguardare entrambe e così ancora una volta un pezzo di Trieste soccombe mentre Udine se la gode.